Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrate nella casa di Zaccaria salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di spirito santo ed esclamò a gran voce, Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E' beata colei che ha creduto nell'attempimento di ciò che il Signore le ha detto. Allora Maria disse, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo Qualche giorno fa abbiamo celebrato la festa della Natività della Santissima Vergine. Oggi la Chiesa consacra un giorno per onorare il suo santo nome, per insegnarci attraverso la liturgia e l'insegnamento dei santi, tutto quello che questo nome contiene per noi di ricchezze spirituali, perché come quello di Gesù lo abbiamo sempre sulle labbra e nel cuore. Il culto del Santissimo nome della Beata Vergine Maria, che il martirologio romano ricorda in questo giorno, rievoca l'amore della Madre di Dio verso il suo Figlio Santissimo, ed è proposta ai fedeli la figura della Madre del Redentore, perché sia invocata con profonda devozione. L'invocazione del nome di Maria in tutta la Chiesa, insieme a quello di Gesù, è un culto che si diffuse nel corso dei secoli in tutta la Chiesa, che i pontifici arricchirono con varie indulgenze. Presso il popolo ebraico il nome era molto importante. Quando si imponeva a qualcuno un nome, si voleva esprimere con esso ciò che la persona in questione sarebbe dovuto diventare in futuro. Si voleva esprimere cioè un programma di vita, una missione da compiere. Il nome esprimeva la profonda realtà di una persona, riguardo al nome di Maria, tre sono i principali significati. Maria, mare. Dall'ebraico Mariam è un nome adatto a esprimere la sovrabbondanza delle grazie sparse sopra di lei. Come tutti i fiumi sboccano nel mare, così tutti i tesori delle grazie celesti, tutte le eccelse prerogative e carismi furono riversati nell'anima della Vergine che è chiamata appunto Madre della Grazia. Il secondo significato del nome di Maria è amarezza. Anche questo significato conviene alla Vergine il cui cuore era immerso in un mare di angoscia, precisamente come aveva predetto il profeta, immenso come il mare e il tuo dolore. come la Vergine era stata colmata più di tutti i santi di grazia, così più di tutti loro doveva bere il calice della passione del suo figliuolo Gesù. Il terzo significato del nome di Maria è stella. È San Girolamo che chiama Maria con tali appellativo. Lei di fatti è la stella che ci guida nel porto sicuro in tutte le tempeste della vita. È così che la Chiesa invoca la Vergine nel bellissimo inno Ave Stella del Mare. San Bernardo intreccia sapientemente a questo significato le più belle pagine di eloquenze e di più consolanti considerazioni. Maria è la pura e gloriosa stella che sorge da Giacobbe e illumina tutto il mondo. La sua luce brilla nei cieli e penetra negli abissi. Percorre la terra in fiamma di amore divino ogni cuore, suscita le virtù e distrugge il vizio. Ella è la candida e dolce stella innalzata dalla providenza sopra il profondo mare dell'universo per illuminarlo con lo splendore del suo esempio. Maria è ancora giubilo al cuore, melodia suave all'orecchio, balsamo salutare ogni sorta di miserie. Come l'arcobaleno indica la fine della tempesta e annuncia il ritorno della calma, così il nome di Maria, entrato in un'anima ne allontana il peccato, la dispone alla pace del Signore. A parte il significato, il nome di Maria ci ricorda soprattutto chi è lei per il popolo cristiano. E lei è l'Immacolata, la madre di tutti e la mediatrice di tutte le grazie. Il nome di Maria insieme a quello di Gesù è il nome più caro e più largamente invocato dai cristiani. Quante grazie si riversano sul mondo, sulla Chiesa, sui peccatori, con l'invocazione di tale augusto nome. Il nome di Maria però non è soltanto dolce e consolante e caro al nostro cuore di figli, ma è un nome potente, un nome che fa tremare i demoni, è un nome che porta salvezza alle anime, è un nome dinanzi al quale si inchiniano riverenti gli angeli, la terra si allieta e l'inferno trema. Dobbiamo pronunciare questo nome di salvezza molto spesso, in modo speciale nei momenti del bisogno. anche nel nostro cammino verso Dio incontriamo difficoltà. Il Signore le permette per purificare le nostre intenzioni e perché progrediamo nelle virtù. Ed è possibile che per la nostra incapacità di superare gli ostacoli siamo colti dallo scoraggiamento, dalla stanchezza nella lotta o dai dubbi sulla nostra eterna salvezza. E' questo il momento soprattutto di ricorrere a Maria. Tutti ricordiamo la bellissima esortazione di San Bernardo. Se insorgono i venti delle tentazioni, delle tribolazioni, guarda la stella in bocca a Maria. Se sei spinto dalle onde della superbia, dell'ambizione, della calunnia, guarda la stella in bocca a Maria. Se l'ira, l'avarizia, la concupiscenza della carne scuotono la navicella del tuo spirito, guarda a Maria. Se turbato dall'enormità dei tuoi delitti e dall'orrore del giudizio di Dio, cominci a precipitare nell'abisso della tristezza, in bocca a Maria. Maria sia sempre nella tua mente e nel tuo cuore. Seguendo i suoi osempi non ti smarrirai. Invocandola non perderai speranza. Pensando a lei non cadrai nell'errore. Appoggiato a lei non scivolerai. Sotto la sua protezione non avrai paura di niente. con la sua guida non ti stancherai. Con il suo aiuto giungerai al porto dell'eterna salvezza. Sia lodato Gesù Cristo. Gesù Cristo. Gesù Cristo. Grazie.